Non hanno mai tempo i nostri papà, corrono sempre di qua e di là. Dieci colonne, di carte da fare, li chiami e fingono di non sentire. Ma da domani con una magia portiamoli via, via dalla frivania, perché un uomo è grande, grande davvero, quando ritorna bambino di nuovo.